Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su Nometi Mars, siamo di nuovo, no, di nuovo, no, è la prima volta, siamo per la prima volta su Highlands, questo è un gioco che è uscito, non so da quanto, forse 3-4 giorni, è in accesso anticipato, quindi ancora dovranno lavorarci un bel po' di sviluppatori, ma comunque è già un buon punto, è stato paragonato un po' a Minecraft per questa grafica, come potete vedere, un pochino squarrettata, anche se in realtà molto meno, è un gioco open world con una componente veramente ampia di crafting e anche la classica componente terraforming che a me piace sempre, e praticamente è un gioco esplorativo, di costruzione barra esplorativo, tant'è che una volta che avremo esplorato, perché qui parliamo di isola, avremo esplorato questa isola, avremo recuperato tutte le risorse che servono, possiamo scegliere di farci una bella nave e andarcene per altri lì, di altri luoghi, chi lo sa, è un gioco che, diciamo, lo sto scoprendo insieme a voi, quindi andiamolo a vedere. Allora ragazzi, come potete vedere, qui siamo tutti 3 amici, siamo in un server chiuso, siamo 6 persone, gameplay channel Ita Mirko, il calzare dei videogiochi Alessandro, Snake che è un altro nostro amico che si è unito a noi, The Creeper che già ha giocato insieme a noi anche ad altri giochi, il corsario che si unirà dopo e naturalmente io, quindi questo è un server chiuso dove non c'è il pvp, ci sono anche dei server dove voi potete entrare liberamente e credo che ci siano sia dei server pvp e dei server pv, dipende un po' dall'impostazione da chi ha ostato il server naturalmente, anzi, prendo l'occasione per dirvi, chi si volesse unire a noi è naturalmente benvenuto. Noi siamo su Discord, ci possiamo trovare benissimo su Discord, chiaramente rispettando le solite regole di cordiale amicizia e l'educazione potete venire tranquillamente, non abbiamo problemi. Link di Discord ve lo lascio in descrizione e poi chiedete direttamente a me senza problemi. Ah, vi ricordo in ultimo di iscrivervi anche al canale, chi non lo volesse fare, fuori! No, ovviamente scherzo ragazzi, imparate quello che vi vuole. Però se vi iscrivete al canale mi fate un piacere. E andiamo a giocare ragazzi, dai! Eh, probabilmente c'è poco su st'isola qua. Se facciamo subito si preparano. La barca. Ma la sega l'avete fatta poi? Sì, ne abbiamo fatti qua. Quante ne avete fatte di sega? Io ne ho un'e in mano. Wow, madre di sua. Sei contenta? Mighty non commenta adesso perché non vuole. Ah, eccole qua le sega. Guarda qua quante sega che hanno fatto. Sta prendendo largo dal gruppo Mighty. Sta uscendo da noi. Ma io spieghi che sono vecchio, ormai non mi funziona più. Sono nella pace dei sensi. Guarda, guarda che segone qui, mano. Vabbè. Ok, veramente quanto è grosso. Cioè, guarda. Cioè, è enorme. Ebbene, oh, se una cosa la devi fare, la devi fare fatta bene. Mi sembra giusto. Eh, aspetta, io ho già 60 plank fatte per la nave quella grande, intanto. Esatto. Poi abbiamo Mighty Mars. E la barca. E la barca. Eccolo qua. Yeah, yeah, yeah. Eccolo qua. Ok. Manca qualcuno? No, non credo. Gino. Gino. Ah, Gino. Gino Corsaro. Gino Corsaro. È vero, è vero. Cavolo. Sì, mi ero venuta a fare una visita di cortesia, ma mi hanno messo subito a scavare le miniere, ragazzi. Non so. Siete molto gentili. Cosa stavi facendo, Mighty? Di una freccia. Oh, una freccia, che culo. Te l'ho detto che te la diamo. Non la posso prendere, però. Eh, lo so, l'ho specata. L'ho specata per te, sa. Grazie. Eh, questa è... Ma tu non ho un'ora. Questa è una prova d'amore, eh? Una prova di freccia. No, no, ma qua andiamo via adesso. Prendiamo la roba, andiamo via, carichiamo la nave, andiamo via da qua. Non c'è niente. Non c'è neanche una struttura da visitare, niente. Ah, non ci sono grotte. Tocca... No, grotte ci sono, no. Tocca fare le grotte e te, per schermo del personaggio. Esatto. Tanto le sta facendo mai le grotte. Guarda, ho 41 di carbone, eh. Buono, buono. Ah, no, 58. Si moltiplica nell'inventare quando... No, ogni volta che lo guardi... Oh, figlio, papioli. Qual è l'accesso per le opi? Qua, qua, quella più esterna, questa qua. Vado un po' avanti in acqua. Eh, sì, vai sulla profondità. Parli giovanti. Se no... Prenditi la barchetta, vai col raft e vai un po' più avanti. Vado in una nuota, per niente. Che si affondo, perché se no la barca si impianta quella. Dove c'è lo squalo? Oltre le pianticine. Lo squalo di terra. Aia! E' uno squalo, aia! Ti ha detto. L'avevamo già detto. Oh, no, no, sono morto. Sono morto. Come si è morto? Sono morto con tutte le opere. E' andato dallo squalo. Ma quello squalo che è qua davanti, quello che qua ferro. No, c'è un altro. No, c'è un altro. Adesso vado io e recupero tutto. Ah no, cavolo, non c'ho più la armatura. Vabbè, sono morto. Beh, uno vada in bar. Uno, uno va. Basta andare lì davanti e ci sono tutte le robe. Allora, qua lascio i log. Sì, metti lì dentro la cassa, quella più esterna, Mirko. Quella più esterna? Sì, ce n'è una un po' più esterna rispetto a... Ah, quella proprio per terra, vicino... Sì, sì, quella là. Ah, il brancere, ok. La sei lì. Ma, ah, sei laggiù che sei morto. Eh, non so dove è morto. Eh, la sfiga è che in acqua non si può usare la spada. No, no, sì, sì. Ah, qui? Qui sei morto. E' lo squalo che sta mangiando la tua cosa. Eh, sì, si può usare la... Qua, a me non me la fa usare la spada, in acqua. Io avevo l'ascia e la stavo usando. Gli ho dato un colpo. Lo squalo. No, a meno che l'ho dato con un pugno gli ho dato. Eh, mi stai pugni, perché te la toglie la spada. Almeno me la toglie. Sì, a pugni. Ma in tre ce la possiamo uccidere sto cavolo di squalo. Avete presa la roba? No, perché sono da solo. Andiamo in tre, andiamo in tre. Aspetta, aspetta, che arrivo. È che si muore su me, ti. Andiamo tutti a morire. Perché c'è lo squalo buggato, proprio. Dai, ma è un altro. Che non è buggato. No, no, è buggato sotto, sta uscendo, entrando dalla sabbia. Chi è quello sulla barca? Io. Dove è la barca? Dove sono io? Ma è qua sotto, qua sotto. Ecco qua sotto, guarda. Ma chi è lo squalo, Mirko, che sei proprio vicino. Ti hai visto? Non lo vedo io. Non mi devono fare neanche punto. Ah, ah, dolore, basta. Ah, è lì, è lì. Maledetto. Lo prendo a pugni. E io sto per morire di nuovo. Vai via. Vai via, vai via. Non lo metto il cuore. Dov'è lo squalo? È scomparso. Non lo vedo più. È scomparso? Sì, non lo vedo. No, non c'è più. Vabbè, prendi tutta la roba al volo. No, scusate l'ossigeno. E perché io ho l'inventario pieno, quindi non so cosa... Anch'io ho tre robe e non riesco a prendere. Adesso torno e... E come si va sotto, qua? È con shift sinistro. Prendi tutta la roba a te, Mighty, che è il vuoto. È io qualcosa riesco a prendere, ma... Ho chiamato l'ossigeno ogni tanto, vieni su, Mighty. È sì, io sono morto per l'ossigeno. Non so come il palombano. È così non riesco a prendere. Ho preso i 50 log, ma... Fidi così non riesco a prendere. Faccio che qua c'è pure l'altro squalo, male. Ma quello lì è buggato, quindi... Sì, quello è fermo lì, arenato lì da... Credo che finché non lo tocchi, quello resta lì. E io i log sono riuscito a prendere. Sì, è pieno. Sì, è pieno. Puoi gettare e fare la barca, adesso. Ho detto che hai tutta la roba a te, dovresti riuscire a farla... Ah, c'è sempre la roba, aspetta, aspetta. No, ma non devi farla arriva alla barca, devi farla qui in zona, perché è più profondo, se no la barca si ba... Ma io come la faccio la barca, no? Vai su crafting e scrivi large ship. Mi dovrebbe dare una barca. Allora, mi mancano i chiodi e mi ha un canzacco di roba, invece. Eh, allora sono ancora sotto i chiodi. Ma è stato arrivando io. O li ha presi il Mirko? No, no, io ho preso solo i log. No, c'è sempre la roba in basso. No, ho sbagliato l'alto squalo, ho sbagliato l'alto squalo, ma porca vacca. Aspetta, che tanto c'è della roba l'ultima. No, no, portalo lontano, portalo lontano. Aspetta che arrivo a prendere l'altra roba. E niente, sono morto di nuovo. Porca vacca. Ascolta, eh, fatemi andare, io vado a... Ma come la roba, aspetta, che... Ma non la vedo più. Occhio, vai via, vai via! Vai via! Non capisco se i problemi di squadre... Non manca Riva, questo! Che vuoi, eh, maledetto? Uccidilo, uccidilo! Non telepause, eh? No, 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 no. Matalo, matalo! No. Dobbiamo attirarlo a Riva e uccidere. Eh, la Gio, uccidete, un pezzo di giorzo. Eh, cosa man? C'è l'altro che l'ho sbaggato. Eh, non ho più, eh, c'è ancora un bel po' di roba qua sotto, eh, non ho più spazio. Adesso lo arrivo io. Se avete ucciso, lo arrivo io. Sì, sì, vai, vai. Se avete ucciso... Eh, fa, facile, eh, quando l'hanno ucciso, arrivo lui. Ah, guarda che ce n'è uno arriva, dall'altro arrivo, ce n'è un altro baggato da sblocco. Vabbè, quello, lascialo. Ma ora arrivo io, eh. Se riesco a tirar via qualcosa, ma... Fatemi mangiare, mamma... Ah, questa la posso tirar via. Insomma, ragazzi, è arrivato il salvatore, eh. Vito? Sì, hai visto lo squadro come ti ha seguito finora? Eh, però l'ho fatto fuori, eh. E Mighty, ma cosa? Chi è questo? Chi è questo? Io, io. Chi è? No, no. E Mighty, metti fuori la... O la dai, o vai a far l'attare la nave? No, no, vi do, vi do. Una testa, vedo una testa. Allora, aspetti che torna... Allora, un po' di altra roba sono riuscito a prenderla. Vedi qua quello che avanza. Uh, guarda che ho trovato nel metto, guarda un po'. No, dammi... Qua c'è l'armatura, un pezzo d'armatura ce l'avevo io. Ho trovato nel fondo del mare. Eh, in fondo al mare. Dammi sto il metto, dammi sto il metto! Ah, no, questo è il mio. Eh, dammi il mio il metto. Eh, qua c'è tutto il ferro. Ho anche salvato la vita. Ingrato. Ma cosa? Non è vero? Hai solo rubato le mie robe, io ti vedo più, vuotare nell'aria. Ti ho vendicato, ho ucciso lo squalo. Eh, quello tu, va bene, allora lì. Vabbè, questo cosa è vero, non so, è più bruttato. Eh, ti manca qualcosa, guarda che qua c'è tutta la roba e vedi un po' se... Eh, sì, manca tutti... Che ti manca? Tutta la parte dell'armatura. Ma io ne ho preso solo un pezzo e te l'ho dato. La spada, la... È andata a venderlo Mighty? Eh, questa c'è scritta Mighty su questa spada. La... lascia da guerra. È già andata a venderlo. Oh, questa c'è la tua. No, io poi... Ah, eccola, la lascia ce l'ho io, Totti. Però stai bene così in mutande. Nei pantaloni. Non ci sono. No, io i pantaloni non li ho presi. Ah, maiti. No, no, io non c'ho niente. Metti la rigalleggiare. Secondo me c'è la Alessandra. No, 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 non sono andato neanche in acqua io. Eh, io c'ho la sega, la vuoi? La sega, ti ho. No, grazie. Vabbè, me la rifaccio. Te la metti al posto delle mutande. Oh, si sono rotte, veramente. Ho una lieve frizione. Posso farlo da... dalla nave. Cosa? Dalla macchina piccolina. Eh, si è spaventato, ragazzo. Non vuole più andare in acqua. Hai tutta la roba? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, fallo. Faccio dalla nave piccolina perché basta, mi sono rotto. Perché gli squali mi vogliono troppo bene. Non lo so. Ma, eh, Mirko ha un amore per gli orsi, io ho l'amore per gli orsi. Eh, sì. Ah, se puoi Maiti ha l'amore per le pantere. Eh, sì. Però se non ammazzo a squali. No. Dov'è? Ah, sì, lo vedo, lo vedo. Ah, sì. Vieni, vieni, dov'è lo squalo, ci penso io. Non vedi da dove è impiantato? Guarda in fondo. Guarda in fondo. Grazie per la visione!